Curva della Juventus riaperta dopo gli episodi raffisti contro Romelu Lukaku. Questa decisione ha fatto discutere tantissimo ieri, oggi vi dico la mia, vado contro corrente, giusta. Decisione secondo me giusta, io sono sempre contro punire tutti per educarne 20. Non è che per colpa di 20 o 30 imbecilli devono essere colpiti tutti gli altri che non hanno fatto niente. Anche le società spesso sono in ostaggio di questi cretini e più di tanto non possono fare. Quindi io sono per fare il culo alle persone che vengono prese mentre fanno questa cosa. Non per punire anche tutti gli altri che poracci erano lì e si guardavano la loro partita e perché non devono andare allo stadio perché ci sono 20, 30, 40.